ciao a tutti oggi prepareremo i carciofi ripieni il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono carciofi pan grattato aromatizzato parmigiano olio acqua sale pepe e capperi che sono facoltativi andiamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale il parmigiano facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10 mettiamo da parte il parmigiano tritato adesso riposizioniamo il boccale facciamo un po di spazio e riempiremo i carciofi prendiamo il carciofo iniziamo prendendo un cappero lo mettiamo all'interno della foglia prendiamo il pan grattato e andiamo a riempirlo passiamo all'altra foglia ovviamente come avevo detto i capperi sono facoltativi e proseguiamo così con tutte le foglie dove riempito tutti i carciofi adesso versiamo all'interno del boccale che non abbiamo lavato perché non è necessario l'acqua e il sale chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo il baroma sopra il bimbi prendiamo il sale mettiamo un po' di sale secondo del vostro gusto un po' di pepe il parmigiano e l'olio chiudiamo il baroma con il suo coperchio e facciamo cuocere per un'ora temperatura varoma velocità 1 la cottura dei carciofi è terminata verificate assaggiandoli che siano di vostro gradimento a livello di cottura eventualmente prolungate per altri 10 minuti sempre a temperatura varoma i nostri carciofi sono cotti andiamo a impiattare carciofi ripieni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti